C'era una volta in un orto una bellissima chiocciola di nome Vittoria. Ogni mese le formiche organizzavano una gara di velocità, ma a lei non veniva permesso di iscriversi. Tutti dicevano che, in quanto chiocciola, lei era lenta, troppo lenta per natura. Invece Vittoria si era allenata molto ed era diventata veloce, davvero veloce. Vittoria! A lei non importava vincere, ma provare che era ingiusto ritenerla lenta. Le mie parole sono come le stelle, esse non tramontano mai. A lei non importava vincere, ma provare che era ingiusto ritenerla lenta.